mi chiamo ramata ho ottenuto dalla banca un presito di 115 euro e adesso nel mio cortile posso preparare e vendere la birra è un lavoro duro ma ce la farò con me c'è progetto mondo che mi aiuta a crescere progetto mondo il futuro alla portata di tutti basta un click